Con l'arrivo ormai imminente di Legione Pokémon Archeus ho pensato di riproporre qui sul canale una serie che ho portato per tantissimi anni riguardo vecchi giochi e anche di recente con grande successo in Diamante 200 per la Splendente, ovvero il team che vorrei usare nel suddetto gioco, in questo caso Legione Pokémon Archeus. Lo so, il parco Pokémon è ancora decisamente incompleto per quanto riguarda Legione Pokémon Archeus, ci sono numerosi Pokémon ancora da annunciare, in particolare ovviamente le forme di Sui, quindi ci sarà da lavorare anche in altri video, questo possiamo dire che è un primo video, una parte 1, in cui andremo appunto a parlare di Pokémon che mi piacerebbe tantissimo usare a fine gennaio nella Legione di Sui in Legione Pokémon Archeus. Ovviamente ragazzi la domanda è aperta anche a voi, soprattutto a voi, quale Pokémon non volete l'ora di usare in Legione Pokémon Archeus? Beh, fatemelo sapere qui sotto, mi raccomando, anche un like per diffondere al massimo il video su YouTube, come sempre, una bella iscrizione al canale. Mi raccomando ragazzi, andiamo a esplorare l'attuale parco Pokémon della Legione di Sui, cominciamo! Questo video, che vi ricordo appunto è una prima parte di questa mini rubrica dedicata al team di Legione Pokémon Archeus, si divide in tre sezioni, ovvero starter, evoluzione di Sui e forme di Sui, quindi andrà poi a completarsi, perché mancano ancora diversi annunci, si spera, perciò ragazzi oggi parliamo di quello che abbiamo al momento annunciato. Prima parte di questo video è dedicata quindi agli starter, sono tre, sono di diverse regioni, sono Rarlet, Sintaquil e Oshobot, ed è ovviamente, come vi ho detto, ancora presto per capire con esattezza al 100% quale starter useremo magari per l'avventura, per la nostra prima avventura, Legione di Pokémon Archeus, anche perché molto probabilmente questi starter avranno un'evoluzione finale di Sui alternativa, nome più lungo, veramente, non potevo trovarlo. Quindi potrebbero cambiare anche in corso le carte in tavola, perché molto probabilmente non avremo Decidueye, Typhusion e Samurott. Diciamo che tra i tre possiamo provare ragazzi a ragionarci su per tentare di allestire poi in futuro un team, come detto, in Legione Pokémon Archeus. Oshobot, Fawcett, tra i tre è quello che mi è sempre piaciuto di meno nella sua regione, quindi nella regione di Vuli, ma in quinta generazione, ovviamente sono molto affezionato a Syndaquili, perché sono nato in quella generazione con Pokémon Cristallo, quindi lui è un'ottima scelta, ma tutto sommato mi piace anche Ravlet. Decidueye era un gran Pokémon, probabilmente a Disui non ci sarà più, o meglio, non ci sarà il Decidueye che noi abbiamo conosciuto nella regione di Alora, quindi al momento la mia scelta potrebbe ricadere sul carissimo e vecchio Syndaquili, che tanto mi ha accompagnato nelle mie avventure nella regione di Yoto, ma anche nelle generazioni successive, quindi un Pokémon a cui sono molto affezionato, e vediamo un po' perché si parla di diversi typing, per questo Tavifogeno alternativo, Spettro, Folletto, diventa una fata, una falena, ci sono molti leak, quindi bisogna aspettare ragazzi e vedere un po' cosa combinano con questo Pokémon. Però diciamo che un tipo fuoco, visto che Tavifogeno mi è sempre piaciuto, non è male per cominciare leggendo i Pokémon Archeus, però vedremo. Il tipo fuoco quindi in teoria ce l'avremmo, vediamo un po' come sarà l'eventuale evoluzione alternativa di Syndaquili, adesso passiamo alla sezione evoluzioni regionali, ovvero abbiamo tre Pokémon, Weirdir, Basculegion e Cleavor. Tre Pokémon annunciati in questi mesi, alcuni veramente sorprendenti, in particolare l'evoluzione di Isui, di Stuntler e di Basculegion, che era un Pokémon che aveva veramente bisogno di questa evoluzione, e infine abbiamo Cleavor, evoluzione di Isui, di Scyther, avevamo già Scizor, quindi hanno aggiunto pure questa evoluzione. Un Pokémon tipo coloro roccia, ha sviluppato parti del corpo veramente molto resistenti, taglienti ed è un Pokémon molto particolare, forse mi ispira un pochino di meno al momento rispetto a Weirdir e a Basculegion. appunto Stuntler, finalmente ha un'evoluzione, finalmente ha quello che si merita, quindi non il nulla più totale. Weirdir mi piace, normale Psico è un buon typing, che è il typing di Giraffa, praticamente, buon typing, buon design, anche se, ragazzi, a me quello che mi ispira veramente tantissimo è l'evoluzione di Basculegion, che finalmente ottiene anche lui un po' l'importanza, Basculegion ha veramente un'ottima backstory, praticamente il Basculegion a Isui si evolve quando gli spiriti dei Basculegion praticamente sono al suo fianco e diventa un Pokémon veramente instancabile, instancabile fortissimo, dalla grande potenza, non vedo doveva di usare questo Pokémon, che sarà, se non ricordo male, ma è quello, Acqua Spettro, un ottimo typing e abbiamo sia il tipo fuoco al momento che il tipo acqua, quindi sarebbe già un ipotetico buon inizio di Team. E infine, almeno per questo video, abbiamo le 5 forme di Isui annunciate, quindi parliamo di forme regionali, non evoluzioni, ma forme di Isui, perché abbiamo Voltorb di Isui, annunciato in questi giorni, in Pokémon è veramente vivace, carinissimo, che molti hanno criticato, però io dico è Voltorb, si può fare poco, e sinceramente questo Voltorb primitivo, legnoso, mi piace veramente tantissimo, di tipo erbe elettro. Abbiamo Zorua e Zorowark di Isui, abbiamo Bravery e abbiamo anche il Growlite di Isui, annunciato praticamente al primo trailer, o quasi, di leggerne Pokémon Arceus. Possiamo però fare qualche ragionamento, perché il tipo fuoco in teoria già ce l'avremmo, con il nostro starter Syndaquil, quindi Growlite di Isui è sì bello, voglio vedere dove andranno a parare con l'Arkline di Isui, però il suo typing è veramente svantaggioso, perché vi ricordo che il Growlite di Isui è roccia fuoco, quindi un typing veramente fragilissimo, il typing di Maccargo, un typing, devo dire, molto brutto, il Growlite è carino, con questa pelliccia molto più accentuata rispetto al Growlite conosciuto precedentemente, però, a parte il tipo che è veramente debole, già abbiamo un tipo fuoco al momento. Anche Bravery è veramente un Pokémon incredibile, sarà solamente lui con la forma di Isui, quindi l'Afflet sarà normale, sono solamente i Bravery che hanno questa forma di Isui. Un Pokémon che sì, mi piace per il design, non so se lo utilizzerò alla prima giocata, anche perché, io non so ragazzi, non so voi se vi trovate nella stessa situazione, ma a me ispirano un sacco, vabbè, Zorua e Zorork, ma anche il Voltrop di Isui, cioè ha un non so che di allegro, di vivace, poi con questo typing erba elettro, che vi ricordo è il secondo erba elettro dopo Rotom taglia erba praticamente, sono molto curioso di vedere come faranno con Electrode, perché in realtà è molto semplice, anche perché Electrode è quello, è una sfera con occhi e bocca, c'è ben poco da fare, però voglio veramente vedere cosa combineranno con questo Pokémon, e sarebbe anche un tipo erba elettro, quindi ci dà veramente un sacco di mosse utili in questo gioco, perché erba elettro, ragazzi, sono due tipi veramente ottimi, e poi abbiamo Zorua e Zorork di Isui, questi, vabbè, mi spiegano un sacco, l'avete capito, dai trailer, hanno ottimo design, hanno per la prima volta la combinazione normale spettro, che sarà una combinazione veramente OP in questi giochi, il trailer di lancio di questi Zorua e Zorork di Isui è stato fenomenale, con quel video da ricostruire, poi c'era quel verso misterioso, c'era quella ombra incredibile che ha distrutto il personaggio del video, veramente un Pokémon che mi fa nutrire grandi speranze per il gioco, quindi penso che al momento le mie scelte siano queste, c'era sperare che tutto sia condito più che altro con una buona grafica, perché come vi dico, il video non è dedicato a questo, però abbiamo visto diversi tentennamenti di grafica anche nel video di volto, perciò speriamo, speriamo davvero bene. Mi raccomando, massimo supporto per questo video, mi piace, un commento, quindi quali Pokémon non vedete l'ora di utilizzare in agenda di Pokémon Archeus, mi raccomando, è anche una bella iscrizione al canale. Per oggi possiamo dire che dal buonarocket è tutto, quindi le equite vi auguro un buon pomeriggio, una buona giornata, e ovviamente, come sempre, bye bye!